Sindaco, primo via libera del Consiglio Comunale, è stato adottato il nuovo piano spiaggia qui a Roseto, quali le principali novità? Beh, diciamo che questo è un atto molto importante, forse il più importante finora dell'amministrazione da me guidata. La città di Roseto ha un arenile di più di 11 chilometri dal fiume Vomano fino al Tordino. Le novità sono sostanzialmente quelle legate alla possibilità di ampliamento delle concessioni dei trentisti, sono cosiddetti trentisti, sono quelli che avevano e hanno ancora 30 metri di fronte mare, che noi abbiamo esteso a 50 metri. La possibilità di fare quindi la ristorazione a tutte le attività, gli stabilimenti balneari. Avete messo a posto anche qualche concessione per qualche hotel che non aveva lo sbocco sul mare, sulla spiaggia? Sì, abbiamo previsto in queste nuove concessioni solo due stabilimenti balneari, considerando la capacità di investimento che oggi serve per costruire una struttura come stabilimento balneare, considerando anche l'incertezza che regna con la famosa direttiva Bolkstein sulle concessioni, quindi sul rinnovo non più automatico come era stato fino adesso delle concessioni, ma che dovranno essere messe a bando. Scadevano al 2015, c'è stata una proroga fino al 2020, ho letto da qualche parte, ma comunque sostanzialmente non c'è più la certezza per i gestori di avere all'infinito il rinnovo delle concessioni. Quindi abbiamo previsto questi ombreggi, soprattutto nella zona nord, dove si è sviluppato la zona di Viale Macarska, dove ci sono delle attività ricettive, le più importanti della città, tra le più importanti città di Roseto, e che non avevano la possibilità di mettere gli ombrelloni a mare.